Ho sempre avuto la passione per il combattimento, nonostante mi venisse sempre detto che ero troppo secco, troppo insicuro, troppo tante cose negative per diventare un combattente, ma non le ho mai ascoltate. Sono Marco Esposito, ho 16 anni e mi alleno al Ground Pressure Team Profighting Napoli Club. La mia storia inizia nei quartieri spagnoli a Napoli, vengo da una famiglia molto umile. Ho iniziato a fare MMA dopo che ho compiuto 14 anni e sono venuto qui informandomi sui coach per l'appunto. Mi sono sentito ispirato e mi sembrava la scelta migliore. La mia prima competizione l'ho avuta a settembre del 2021, in cui vinsi i miei primi due match in un minuto entrambi per sottomissione. Dopodiché è arrivato il primo titolo italiano a ottobre e il secondo a dicembre. Dopodiché ci sono stati vari alti e vari bassi, ma non sono mai uscito fuori dal podio, arrivando sempre per lo più vincitore, concludendo una stagione con 7 vittorie e 2 sconfitte. In questo momento mi sto preparando per rappresentare la nazionale italiana ad Abu Dhabi, nei mondiali minorili, dal 17 agosto al 20 agosto. Insieme alla nazionale italiana sarò occupato. Prenderò il migliore dei risultati, o almeno quello è l'obiettivo, e il mio motto per questo torneo sarà uccidere o essere uccisi. Non importa il risultato, darò il massimo di curi di tutto.